Ciao a tutti, sono Ivano Ricchebono, sono lo chef del ristorante The Cook di Genova. Siamo all'interno di un palazzo storico, siamo nel palazzo Brancadoria. È un palazzo del 1300, ma quello che c'è di bello sono gli affreschi. Sono affreschi di Bernardo Strozzi, originali, quindi abbiamo vera storia genovese. Oggi cosa facciamo? Oggi prepariamo il minestrone, un grande classico della cucina genovese, della cucina ligure. E qui sul nostro tavolo abbiamo tutte le verdure che noi possiamo utilizzare. Sono verdure della nostra terra, verdure della nostra entroterra. Adesso andiamo in cucina e iniziamo la preparazione del minestrone. Mettiamo un po' di olio extravergine di oliva in pentola e iniziamo a far soffriggere leggermente la cipolla. Poi passiamo al sedano, anche questo qua. Lo tagliamo a cubetto e lo andiamo ad inserire all'interno della cipolla. Facciamo rosolare per qualche minuto. E abbassiamo il minimo. Sedano, cipolla sono quegli ingredienti che caratterizzano i fondi della cucina genovese. Ma nello stesso tempo abbiamo anche il cipollotto. È quello che dà un pochettino di particolarità, di acidità e anche di struttura al piatto. Cipollotto rosso coliamo e lo andiamo a tagliare in questo modo. E lo andiamo ad inserire insieme alla cipolla e insieme al sedano. Il cipollotto bianco. Tagliamo in quattro. Stessa dimensione. E andiamo a unire il cipollotto al resto delle verdure. Fuoco medio e facciamo rosolare. Nel frattempo prendiamo i fagioli borlotti e i fagioli di cannellini e li andiamo a cuocere in acqua. Chiaramente li dobbiamo mettere a bagno un giorno prima. A questo punto iniziamo con il taglio di tutti gli altri ingredienti. Abbiamo le carote. Le pediamo con il pela patate. E le andiamo a cubettare nella stessa misura. Olio extravergine di oliva in padella. Prendiamo le carote e le facciamo saltare. Nel frattempo Olio extravergine di oliva e prepariamo la padella per le zucchine. Siamo abituati nelle nostre case, nei nostri ristoranti, a tagliare le verdure e a mettere tutte insieme all'interno di una pentola. Ma la bella cosa e la tecnica che deve venire fuori è innanzitutto il taglio ma poi la cottura. Non mettiamo tutto insieme all'interno della pentola ma ogni ingrediente va tagliato e va cotto separatamente. Verdure tutte saltate separatamente per allenare la nota croccante di ogni verdura. Quando poi ne andiamo a mettere in pentola iniziano tutte a cuocere nello stesso identico punto. Nescoliamo dall'olio. Oltre alle zucchine verdi abbiamo le zucchine trombetta d'albenga, questo grandissimo prodotto che non abbiamo tutti i 12 mesi dell'anno ma abbiamo solo quando inizia la primavera e quando siamo quasi in estate. Scoliamo le due estremità, tagliamo in quattro, cubetto. Scoliamo, scoliamo dall'olio insieme alle zucchine, alle carote. Cottura più lunga, melanzana. L'andiamo a pelare interamente per levare l'amaro della pelle. E adesso lo andiamo a tagliare a cubetto, anche leggermente più piccolo. E la mettiamo in padella con olio extravergine di oliva e la facciamo quasi sfaldare. Questo dà la parte un po' dolce. Caccole, tagliamo le estremità e anche queste le andiamo a tagliare a cubetto. Stessa dimensione. Olio extravergine in padella. Siamo ancora nella stagione degli asparagi, quindi perché no? Non tutti utilizzano gli asparagi, ma io credo che sia un piatto dove possiamo veramente utilizzare i prodotti stagionali. Le peliamo leggermente, giusto in fondo. Questo lo facciamo per levare il filetto che può contenere la pelle. E andiamo a tagliare le rondelle. Le punte le teniamo intere e le andiamo a mettere alla fine crude. Nel frattempo andiamo a scuolare con le tappole. e le andiamo a scuolare. Pagliamo le melanzane con un po' di brodo vegetale. Mentre le melanzane cuociono andiamo a preparare le verdure da essiccare e per mettere in forma. Allora, la parte croccante del minestrone. Con un pelapatate o con una fettatrice o con un coltello ben affilato, tagliamo a fette le zucchine, le carote e le rape rosse. Le disponiamo su una teglia e le mettiamo 80 gradi nel forno. Chiaramente ogni verdura essica in modo diverso. Sta a noi, una volta che le mettiamo in forno, tirare fuori nel momento giusto le zucchine, le carote o le rape rosse. La rapa rossa, chiaramente, avendo tanta acqua, necessiterà di un tempo più lungo. Verdure scolate. Adesso le andiamo ad aggiungere alle cipolle e al sedano. Le mescoliamo bene. Ogni ingrediente dentro deve sapere di quello che è. Spegniamo il fuoco. Poi abbiamo il cavolfiore. Non utilizziamo il gambo del cavolfiore, lo utilizziamo eventualmente anche per fare un brodo vegetale. Lo andiamo a pulire e lo andiamo a sfogliare bene. Olio extravergine. E andiamo a saltare il cavolfiore. Broccolo. Le diamo il gambo, lo puliamo leggermente e lo tagliamo. Tagliamo in quattro. Sleviamo il cavolfiore. Olio extravergine. Olio extravergine. Inseriamo il broccolo. Il broccolo facciamolo scottare giusto qualche minuto e lo andiamo a far scolare dall'olio. La melanzana la schiacciamo in questo modo per farla sfaldare completamente e per far uscire bene il succo della melanzana. Andiamo a unire il broccolo e il brocolo. I colori della nostra terra in pentola. Abbiamo i piselli. Siamo ancora in stagione di piselli e quindi sono piselli freschi che stanno bene, ma soprattutto non andiamo a cuocerlo separatamente in acqua, ma questo qua lo andiamo a cuocere insieme quando andiamo a unire tutti gli ingredienti all'interno della pentola. Poi abbiamo le patate. Possiamo utilizzare tranquillamente qualunque tipo di patata, gialle, bianche, ma eventualmente anche le patate rosse. Le andiamo a pelare. Una parte delle patate le tagliamo a cubetto. La teniamo da parte e la mettiamo dopo, se no si rispa tutta completamente. Le due patate invece le tagliamo solo a metà. Anche in quattro. Mettiamo direttamente in pentola. Questo ci permette di passarla alla fine e di rendere il minestrone anche un po' cremoso. Abbiamo i fagiolini. Anche questi sono un prodotto primaverile, primavera-estate, quindi dobbiamo assolutamente utilizzarli. Tagliamo le estremità e li andiamo a mettere direttamente in pentola. Poi abbiamo i rapanelli. Il rapanello dà un po' di piccantezza, che all'interno del minestrone sta assolutamente bene. Li laviamo. Li affettiamo direttamente sopra. Una volta sistemate tutte le verdure all'interno della pentola, andiamo a coprire con del brodo vegetale e andiamo a iniziare a cuocere il nostro minestrone. Una cosa importante per quanto riguarda la lattuga e gli spinaci. Li andiamo a lavare in acqua corrente e poi li andiamo a tagliare con il coltello e li mettiamo direttamente all'interno della nostra pentola. Lattuga. Prendiamo le foglie verdi. La lattuga non viene utilizzata solo per fare il minestrone, c'è qualcuno che non la mette anche. Viene utilizzata anche per fare la cima, per fare delle ricette tipiche della cucina genovese. Adesso la melanzana. Accendiamo il calore al massimo e facciamo prendere la prima bollitura. Una volta cotti al dente i fagioli borlotti e i fagioli cannellini, li scoliamo e li andiamo ad inserire nel minestrone. Patate. Come ultimo mettiamo la berza. La tagliamo bella sottile e poi la inseriamo. Facciamo andare adesso a fuoco basso per un'ora e un'ora e un quarto. Cuoce da solo, non vi preoccupate. Per guarnire il minestrone cos'è che non può mancare? Non può mancare il pesto. Noi lo prepariamo in modo tradizionale, quindi lo prepariamo al mortaio. Partiamo chiaramente da pinoli, aglio e qualche granello di sale grosso. Pestiamo bene con il pestello di legno. Le foglie vanno inserite gradualmente, non tutte insieme e man mano che inseriamo iniziamo a farle spalbare bene aiutandoci con il pestello e le parete del mortaio. E poi alla fine andiamo ad aggiungere parmigiano reggiano, pecorino sardo e chiaramente olio extravergine di oliva taggiasco. E il pestello al mortaio è pronto. Dopo un'ora e mezza di cottura andiamo a prendere un po' di verdure, le patate quelle che abbiamo lasciato più grandi, le mettiamo in un passaverdura e le passiamo direttamente dentro la pentola. Adesso andiamo ad inserire la pasta. Noi a Genova utilizziamo i bricchetti, è un tipo di pasta apposta per il minestrone, ma io prediligo anche una pasta diversa. Una pasta al farro sono dei ditalini di monograno Felicetti. Nel momento in cui la mettiamo in bocca andiamo veramente a sentire le proprietà e il profumo della pasta. Adesso non dobbiamo fare altro che aspettare il tempo di cottura della pasta. Beh, ci sono un sacco di ricordi dietro il minestrone. Io ho ancora il ricordo del minestrone, delle suore, di quando andavo all'asilo, invece che essere cotto con i tubetti di farro oppure con altri tipi di pasta, veniva servito con il riso. Quindi tutto questo amino del riso che esplodeva e veniva fuori e veniva rilasciato del minestrone. Questo veramente era un qualcosa che ricordo ancora di quando ero bambino. E poi a casa. Io, terzo figlio di tre maschi, chiaramente, per sfamarci, la mamma o la nonna dovevano fare dei grandissimi minestroni. in estate oppure in inverno, ma chiaramente abbiamo un ricordo che ci rimane dentro e che ci portiamo sempre dentro di noi. Il minestrone è pronto e lo andiamo a mettere nella zucchina. Nel nostro immaginario, chiaramente, il minestrone è un piatto tipicamente invernale. Però noi a Genova utilizziamo il minestrone anche per i nostri piatti da mettere in tavola in estate. Perché comunque, oltre a essere servito caldo, può anche essere servito tranquillamente freddo. E adesso guarniamo. Prendiamo le nostre verdure essiccate e le mettiamo sopra al minestrone. Rapa rossa. Zucchina. Carote. Questo dà la parte croccante al minestrone. E ponte di asparlo. A questo punto la parte del pesto. Diluiamo il pesto con un po' di acqua calda e lo versiamo sopra con un cucchiaio. Questo non è un piatto che viene servito a tavola come un qualunque altro piatto. Il bello è prendere la zuppiera, detto in genovese il grilletto, metterlo in mezzo al tavolo e con un mestolo versare per tutti i commensali. E qui veramente inizia la festa. Una particolarità. I veri genovesi cosa fanno? Piantano il cucchiaio in mezzo al minestrone. Quando il cucchiaio rimane preciso, perfetto, piantato dentro, vuol dire che il minestrone l'abbiamo fatto al 100%. Anche il mio minestrone è una delle 100 ricette all'interno del cofanetto pasta. La guida di Italia Squisita al cibo italiano più amato nel mondo. Vi ho fatto vedere come preparare il minestrone, un piatto della nostra terra. Non vi resta che provare a farlo a casa e vi aspetto qua nel centro storico di Genova, nel Palazzo Brancadoria. Un saluto a tutti gli amici di Italia Squisita da Ivano Ricchebono. Un saluto a tutti gli amici di Italia Squisita.